buongiorno sono massimo spettini specialista in scienza alimentazione e in medicina dello sport autore del libro alimentazione integrazione per lo sport e la performance fisica nella relazione di oggi tratterò gli integratori alimentari nella loro complessità spiegando i meccanismi di azione e le loro indicazioni e i dosaggi consigliati in particolare riferimento alla performance atletica all'aumento della forza e resistenza e al dimagrimento inoltre verranno presentate alcune schede tecniche ed esempi pratici di integrazione alimentare grazie a tutti